Oh bentornati sul canale dei Saintee Boys, oggi siamo qui per festeggiare un grande riunimento ovvero, no non è la morte della regia perché qui, bravo regia, faccio sentire la sua presenza Aspetta che misuro i battiti Quanto è? Secondo me non eri Non ti senti i battiti e sono fermo E sono fermo, allora Oggi siamo qui per festeggiare un anno di Saintee Boys, un applauso Un anno di Saintee Boys, un anno fa esatto, uscivo il primo video ufficiale perché erano usciti anche due video backstage che vi mettiamo qua in alto e siamo molto contenti di essere arrivati in questo traguardo non tanto perché il canale ha fatto un anno ma tanto che noi siamo riusciti a vivere un altro anno Siamo qui, un anno dopo Un anno qua, esattamente Dopo incidenti, dopo sparatori in strada Delle gente che ti parche o senza motivo Dopo preview di merda Dopo film di merda Siamo ancora qua, ancora vivi Vi ringraziamo per la vostra partecipazione per essere stati sempre fedeli e vicini a noi A breve uscirà un video molto interessante che stiamo lavorando da tanto Continueremo ovviamente a fare recensioni Di film belli o brutti dipende da stavanzo del regista Per più, tutto quello che avete visto in questo canale C'è proprio gli stessi video che li rimettiamo No, per scherzi, sempre top 10 Magari anche qualcosa di nuovo Perché no? Le regia, ha altro da dire? O qualcosa da dire? Puntiamo molto sui video della WWE Sì, perché comunque Quindi supportateci anche su quello Sì, supportateci anche da qualsiasi parte Su Facebook, su Youtube Su Youtube Prossimamente magari anche su Instagram Sì, per strada anche perché no Ma c'è anche l'amici di botte Che è comunque una cosa che fa piacere Giusto? Esatto Comunque No, appunto Comunque, per scherzi Speriamo che gli iscritti continuino ad aumentare Ho fatto una frase con tempo per barri giusto Continuano ad aumentare Fino ad arrivare a battere la WWE su Youtube Che sa quanti iscritti sono? Saranno 50 milioni Ne sono 33 milioni Comunque Eccoci qui Sperimenteremo molto Esatto, esatto Adesso ne ha fatto un anno Adesso, in quest'anno Sperimenteremo nuovi video Nuove cose sfrizzanti Stuzzicanti Magari vorremmo Magari Modificare un po' il logo Sì, esatto Ma di poco Questi cambiamenti frasti Magari mettiamo un cuore Con le ali E le stelline Magari un po' più stilizzate Comunque Vi ringraziamo un po' Vi piacerebbe avere una sigla Scriveteci nei commenti se volete avere una sigla Ah ovviamente ve lo diciamo A prescindere se la vostra risposta va Sì o no Se la risposta è stata sì La sigla sarà a modo nostro Comunque Cioè molto 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 bello Comunque Continuate a iscrivervi Continuate a mettere un piacere Continuate a mettere anche sulla pagina Facebook Commentare Vi lasciamo un sondaggio a caso Non so cosa scriverò Sarà un sondaggio Ehm Lei che ho fatto di divi Sulla vita in generale Iscrivetevi al canale Lo sto facendo io Io odio fare queste cose Esatto Mettete mi piace Commentate Condividete E di lit Tra due uno dove? Di qua Dove? Di lì Mi toglie Eh sì Di lì